Allora, una prima notizia buona, io sono l'ultimo e quindi dopo di me vi alzate e bevete e fate fresco. Allora, come voi, lo so il sacrificio è caldo, è veramente tanto, potevamo fare tutto questo in un albergo ma ci piaceva così tanto ospitarvi un po' nel nostro spazio e stare nel mondo del lavoro perché poi è quello che facciamo tutti i giorni. Quindi vi ringrazio di questa sofferenza ma spero che sia premiata. Per quanto riguarda, quello che ho da dire voleva essere, ma è molto complesso, la sintesi di questi tre interventi che sono tutti stati estremamente interessanti. Credo probabilmente il 90% delle cose che abbiamo sentito dire forse, non dico sono nuove ma sono veramente viste da un'ottica nuova e questo è fondamentale. Come diceva prima la dottoressa Vicentini, sostenibilità è business. Business non è peccato, no? Come si diceva una volta, anzi potrebbe essere anche un piccolo merito se è etico e se giustamente gestito. Quindi cerchiamo di capire come tutto questo mondo, il design, l'uso delle materie verdi e ovviamente la capacità di navigare in questo mondo della sostenibilità come sta nel nostro business quotidiano e quindi nel nostro negozio, negozio inteso come ovviamente attività di scambio con i nostri clienti, con i nostri consumatori. Allora parto un po' da lontano ma non tantissimo, parto dagli anni 50. La vendita in tutti questi anni e devo dire che nel nostro caso, nel mondo del pavimento è, scusateci, mi metto dentro anche un pochettino un po' arcaica, perché siamo in quel mondo a metà tra l'edilizia e il design, siamo sempre, non si capisce mai qual è la nostra casa. Nella gestione della vendita per molti anni, per molti decenni, esisteva nella nomenclatura del marketing tre, esistevano tre fasi. Quella che viene chiamata lo stimolo, la pubblicità, l'ho visto su Carosello, l'ho visto sulla rivista, fantastico. Il primo momento, quello della scelta, vado nel negozio e lo riconosco, mi piace, bellissimo, lo voglio, l'ho visto in pubblicità. E il secondo momento, si dice, è quella dell'esperienza. L'esperienza di usarlo, di portarlo a casa, di viverlo e magari diventare anche ambasciatori, si diceva, perché il passaparola era la pubblicità più bella del nostro mondo. Tutto questo è durato per molti anni. Poi a un certo punto cos'è successo? È arrivato il web. È arrivato il web e ci ha fatto fare una deviazione su quella strada velocissima. Ci ha praticamente messo in una condizione di dover ogni volta fotografare quello che facciamo. È raccontarlo, è narrarlo, è andarlo a scoprire, è andare a cercare il cliente che a più poteva piacere questo. Ci siamo trovati a lavorare. Abbiamo visto prima gli amici rovatti, bravissimi, come usano molto bene il social, come usano molto bene, credo ne parliamo molto spesso, sono dei cari amici oltre che dei colleghi, usano questo sistema, questo modo di lavorare estremamente veloce, estremamente dinamico, perché la loro popolarità nasce nel web, ma ovviamente è consolidata nell'esperienza della materia. E nel web è nato qualcosa che si chiama Zimot, la verità. Ieri noi andavamo presso il bar e dicevamo, ma chi è il posatore di pavimenti? Qua ce ne sono di bravissimi, li guardo tutti, dopo ne guardo anche qualcuno che viene qui che gli devo chiedere delle cose. E c'erano questi, andavo e dicevo, no io ho un amico che ha fatto il pavimento, l'amico che ha fatto l'idraulico, bellissimo, oggi tutto questo non c'è più, c'è questo, andiamo nel web, andiamo sul computer, anzi non andiamo neanche noi, va nostro figlio, va nostro ipote e va a cercare quello che è giusto, quello che è bello, quello che è sostenibile, perché questo è il giochino. Tutto quello di cui noi stiamo parlando, che sembra qualcosa che deve avvenire, in realtà per i ragazzi, io dico i bambini nati nel 2000, purtroppo io ho 65 anni, quindi un ventenne per me è un bambino, i bambini nati nel 2000 invece vivono in questo mondo, per loro la sostenibilità è uno dei valori assoluti. Lo vediamo nelle nostre ricerche di mercato, lo vediamo nel nostro web, lo vediamo in tutte le domande che riceviamo quotidianamente sul nostro sito. Oggi abbiamo credo, capito, ma sicuramente ci avete pensato tanto tutti, che vendere, vendere in un negozio, vendere in uno spazio, avere una relazione di vendita, è qualcosa che ha a che fare con molte più relazioni, col sentimento, col pensiero, col senso, è un po' quello che oggi si dice appunto esperienza e non persuasione. Una volta si era capace di persuadere una persona a comprare una cosa, eravamo i più bravi, no, la competenza, io del legno so tutto, arriva uno e ci spiazza subito chiedendoci delle cose che non sappiamo, ci dice ma il vostro legno è tracciato, porca miseria, non mi ricordo, mi hanno detto che era FSC, ma adesso vado a vedere, non è vero, non lo sappiamo, sappiamo molto poco di quello che abbiamo, di quello che facciamo. Prima ho sentito l'amica Visintin che ha parlato molto bene anche di questi spazi commerciali, no, che hanno cominciato a lavorare molto bene sulla rappresentazione del loro essere al di là di quello che vendono. Questi sono tre esempi, questo è un negozio di Adidas aperto da pochi mesi a Londra, totalmente esperienziale, in realtà si va dentro, nessun compra le scarpe lì, si provano e basta, si cammina su dei video, ti misurano il peso della testa, delle spalle, per comprare delle scarpe fai delle avventure meravigliose, no? Qualcuno le ha passate, l'amico Nicola, anche suo figlio credo qua dentro per comprare le scarpe ha vissuto un'esperienza mitica, infatti va solo in quel negozio, adesso basta, finito, non va più in nessun altro negozio. Abbiamo Ghanistore in London che per vendere vestiti che mia mamma direbbe degli stracci, li vende usando un allestimento fatto solo di materiali riciclati, tutti gli arredi sono fatti di materiali riciclati. Dice, ma cosa c'è tra quei vestiti? Poteva fare tutto nero, no? No, invece ha fatto tutto in materiale riciclato, ha espresso un valore, ovviamente anche il suo cotone è riciclato, anche i suoi vestiti sono fatti con materiali riciclati. E così vale per Stella McCartney, più famosa, meno famosa del padre, ma che è anche una stilista, guardate che cosa ci mette dentro i negozi, no? Non ci mette solo l'erba stabilizzata di Rovati, ci mette le pietre anche, ci mette il Stone Village, proprio degli ambienti che creano degli attimi di pensiero, degli attimi di riflessione, non semplicemente devo comprare quella cosa, quasi un'ansia, quasi una fretta, no? Noi siamo dei creatori di design, siamo dei creatori di stile, siamo dei creatori di moda, ma non siamo dei valorizzatori di quello che facciamo. Molto spesso rischiamo che quello che vendiamo lo vendiamo almeno perché abbiamo tutti premura. Quindi un'evoluzione della vendita sta proprio, probabilmente, in qualcosa che ha a che fare con lo spazio, con lo spazio in cui lavoriamo, con lo spazio in cui viviamo, in cui consumiamo quella gestione che è la relazione col cliente. noi cerchiamo di analizzare nel nostro lavoro, ormai l'avete capito, schema non si occupa solo più di prodotto, schema si occupa anche di gestione, di trattazione della comunicazione e anche narrazione del prodotto. Non sono cose complesse, sono cose con cui viviamo ogni giorno, insomma. Però ci sono dei player molto più bravi di noi, che sono questi, che sono la GDO, la grande distribuzione. Faccio un esempio per tutti Ikea. È pericoloso Ikea? Ma no, anzi, è stimolante. Sono organizzazioni potentissime, che vendono delle cose ovvie, a un prezzo assolutamente giusto. Che cosa hanno? Qual è il valore di Ikea? Il valore di Ikea è che ogni giorno la gente entra, non per comprare delle cose, ma perché non sa benissimo, non sa assolutamente cosa comprerà. È affascinante. In realtà va a mangiare delle polpette, va a comprare dei biscotti svedesi e poi compra tutto. E mentre compra tutto, un tagliere, un coltello, bicchieri che ha già comprato, piatti che ha già comprato, in realtà continua a guardare mobili. Per cui quando dovrà comprare un mobile, cosa farà? Andrà a Ikea. Li ha visti? Sono un anno che va a vedere quei letti, quell'armadio e sua moglie dice, ma quando cambiamo l'armadio di casa che non ce n'è abbastanza, no? E va da Ikea. Perché costa poco, ma non lo sa, non ha importanza. Ikea poi, ricordiamoci sempre che è forse il marchio più sostenibile da sempre. Ha sempre dato una percezione di sostenibilità. Da quando ero ragazzo, Ikea era il mobile kit, viaggiava con pochissimo spazio, la logistica era meravigliosa, tutti lo montavamo a casa, tutti tenevamo le chiavette e le brugole perché si smontava da solo e quindi bisognava stringerlo un giorno sì, un giorno no. Ma era bellissimo, eravamo un club intorno a questo mobile. Le Roammerlaine, eh beh, questa fa un po' più paura, eh. Le Roammerlaine fa gli showroom, i francesi sono bravissimi. Sono pericolosi? Ma sono pericolosi sapete perché? Mica perché vendono tanta roba, ma perché tracciano. Ognuno che va lì dentro ha la tesserina. Ognuno che va lì dentro sanno esattamente cosa ha comprato, quando l'ha comprato, che sia un privato, che sia un artigiano, che sia un venditore, che sa tutto. Mica lo danno al fisco questo, eh. Lo usano loro. Lo usano per aggiornare i loro spazi, i loro prodotti, i loro colori, i loro stili. Tracciano, tracciano. Esattamente quello che fa il web. Quando ognuno entra e chiede, fa una domanda a Google e non riesce neanche a dire tre parole che ha già detto tutto, Google gli dice esattamente la via, dove andarla a comprare. Perché? Perché ci sta tracciando da quando usiamo il telefono. Minimo vent'anni. E ci traccia. I nostri negozi. Qualcuno forse si riconosce qua dentro, spero di no. Questi sono i negozi di specializzati. Benissimo. I nostri negozi sono a massi ordinati di materie. ma non sono dei negozi esperienziali. Non lo sono quasi mai. Alcuni casi li vedo. Ma la maggior parte sono negozi che hanno bisogno della vostra conoscenza, della vostra sapienza per prendere la persona per mano e portarla in giro. Benissimo. Bellissimo. Ma se in quel negozio non ci siete voi e ci sono tre commessi, funziona? Secondo me no. Questi sono dei negozi di arredo. Molto più organizzati. Noi invidiamo. Adesso qua ce n'è qualcuno, ovviamente, di amici. Noi invidiamo quelli dell'arredo, come tutti invidiano sempre quelli del giardino accanto, no? E qui dentro ci sono, beh, anche qualcosa che ovviamente l'architetto riconosce, ma insomma, il negozio dei mobili è un negozio esperienziale. Perché? Perché quantomeno ci sono gli allestimenti. Immaginate se invece quei letti fossero sul muro, immaginate se quel letto fosse senza lenzuola, senza materasso, senza cuscino, e sarebbe orribile, no? Non sarebbe un letto, sarebbe un pezzo di legno. Quindi anche la capacità di rendere quel prodotto vestito, vestibile, finito, progettato, diventa ovviamente il senso della vendita. Quindi le esposizioni non sono un costo, anche se sappiamo che sono dei costi pesanti. Le esposizioni sono veramente degli investimenti, come tutti noi abbiamo capito. Certo, sono investimenti importanti, sono investimenti complessi, ma è su questo che noi cerchiamo di lavorare oggi. E cerchiamo di lavorare forse più che col prodotto, credetemi. Noi investiamo tanto tempo e tanto denaro quanto nel prodotto e il nostro AD lo sa, perché ci taglia budget continuamente, perché noi siamo diventati come mia mamma che nascondeva i soldi della spesa a mio padre. E non so perché riusciva sempre a fare degli acquisti impossibili. E non ho mai capito se mio padre guadagnasse il doppio o se mia madre facesse qualche altro lavoro, perché mi trovava sempre del denaro. E noi del marketing dobbiamo fare questo, dobbiamo dire no ma questo non era nel marketing, era nel budget della ricerca. Avete visto il Corriere della Sera stamattina? L'avete letto? C'è una bella pagina di schema a colori. Insomma scusate, non l'ho pagata io, l'ha pagata la schema. Abbiamo creato quello che noi chiamiamo PEP. Un prodotto, esperienzialità, progetto, il prodotto. Il prodotto non è generico, è il prodotto. Ma non può essere il prodotto davanti. Davanti è un prodotto. Diventa il prodotto quando siamo passati attraverso il percorso esperienziale. Abbiamo fatto sì che quel prodotto diventasse il nostro prodotto. Non quello che gli vogliamo imporre, non quello che gli vogliamo vendere, perché noi trattiamo quello nel negozio, ma perché il cliente nel momento in cui l'ha vissuto l'ha assolutamente fatto suo. E questo è il caso dei sistemi acustici fondamentali. Non si può vendere dei sistemi acustici senza capire che fanno un assorbimento acustico. Ma la maggior parte delle volte noi vediamo dei sistemi acustici appesi sulla parete e diciamo questo funziona. E ho capito io, ma fammelo sentire se funziona. Io se vado da Ikea ho letto dove mi posso buttare. Sarà poco? Sarà tanto? Eh, per me è tantissimo. Tre sono gli asset su cui lavoriamo. Pavimenti funzionali, perché noi non ci sentiamo più un'azienda di pavimenti, o meglio di materia per pavimenti. Noi lottiamo sempre con questa grossa illogicità. In Italia si vendono i pavimenti per materia. Io sono un venditore di pavimenti di legno, io sono un venditore di pavimenti di ceramica. Secondo me non c'è niente di più errato. La capacità di vendere i pavimenti, o di fare pavimenti, o di trattare i pavimenti, o le pareti, o le superfici, quello che volete, non è molto diverso da trattare il mobile, da trattare l'arredo, da trattare l'intirio, da trattare l'accessorio. Se io sono un venditore di cucine, non è che vendo cucine di legno, o di formica, o di laminato, o di grass, o di resina, vendono delle cucine. Perché se vendo dei pavimenti devo venderli solo da una parte? E questo è stato per schema una lezione. La lezione che ci arriva da questo mondo, che è quello dell'arredamento. Noi siamo in questo triangolo, non per caso, ma per scelta. Questo triangolo ci dà la competenza, ci dà il comparto che ci aiuta, anche a costruire delle cooperazioni come stiamo facendo in questi anni, e questo ci ha dato una grande forza, appunto la capacità di riconoscere che nel nostro pavimento c'è una superficie, ma c'è un mobile. Noi osiamo dire che vendiamo mobili a terra, e questo lo riteniamo un valore. Il secondo asset è portare una cultura di superficie prestazionale dalla due dimensioni alle tre dimensioni. Queste sono le nostre pareti attrezzate, questo è il modular che avete cominciato a vedere oggi, sono i nostri trametes. Noi ci occupiamo ancora di superfici. In fiera al salone tanti mi dicevano, ma questa non è la schema. No, no, è assolutamente la schema, credetemi, è la schema. Perché la nostra cultura è la stessa. Noi ci occupiamo di superfici, solo che queste superfici le abbiamo fatte alzare da terra. Ma siccome il pavimento è la cosa più difficile della terra, perché deve resistere a tutto, allo sporco, ai piedi, al traffico, all'usura, a tutto, all'igiene, perché non portarla su in verticale? Perché non farla diventare una superficie anche tridimensionale? Ed è questa la nostra seconda missione. Ma il terzo punto è quello che ci piace di più, ed è aiutare il mondo della vendita nella costruzione di spazi idonei, adatti, prestazionali per la vendita. Quindi il mondo della vendita esperienziale. Oggi abbiamo sentito parlare tantissimo appunto di ambiente, di sostenibilità. Finalmente, finalmente. Abbiamo capito, credo, grazie ai nostri tre oratori, quanto questo può diventare un plus, un valore per tutti noi. Ieri dicevamo il nostro era un prodotto profilato, era un prodotto FSC, oggi noi diciamo che è un prodotto di design, è un prodotto sostenibile e lo dobbiamo sostenere con certificazioni, con regole. Perché non si può più cercare solo un margine veloce, ma dobbiamo cercare un margine duraturo, come diceva molto bene l'amico Triusso. Oggi noi ci occupiamo di prodotti che siano fortemente caratterizzati dalla cultura della sostenibilità. E quindi Lambertec Modular. Lambertec è un pavimento che noi abbiamo generato attraverso un brevetto svedese alcuni anni fa. Quest'anno riterriamo che sia veramente il prodotto della svolta. Lo abbiamo rifatto completamente, qualcuno di voi già lo conosce, l'abbiamo riprogettato, adesso non vi trattengo, ovviamente i miei colleghi vi aiuteranno a capire cosa è successo in questo cambiamento, ma questo prodotto è diventato meraviglioso. Oggi noi possiamo vendere un pavimento, trattare un pavimento che usa un ottavo del legno, che si impiega per fare un pavimento semplicemente a tre strati con cinque millimetri, un ottavo di quella materia. Con mille metri di tre strati noi ne facciamo otto mila. Se non è sostenibilità questa io non so cos'è. Non solo, riusciamo ad avere più prestazione, più resistenza, più durabilità e più bellezza. Al punto tale che quella superficie diventa anche interessante per il verticale, per i mobili, eccetera. E quindi tutto il progetto che state cominciando a vedere, questo nome modular, che è diventato camera d'albergo, che è diventato libreria, tutto quello che ritenete avete voglia di costruire. Queste sono due immagini dello stand che per noi ha disegnato Franco Driusso al salone, che devo dire ha avuto un ottimo successo, sia come fiera ma sia come stand, siamo stati estremamente soddisfatti per la presenza e per la qualità dell'intervento. Abbiamo anche generato dei prodotti ibridi e il nostro processo di Starwood è un materiale che ha un trattamento con un'ibridazione minerale nel legno. È una cosa complicatissima ma in realtà si spiega con tre parole. C'è un video, ci sono quattro immagini, ci sono quattro parole che vi aiutano a venderlo al cliente. Sei millimetri con un legno ancora una volta soltanto di sette decimi. Come ho detto l'esperenzialità però non è solo di prodotto, ma è ovviamente centrata sul prodotto e allora abbiamo insieme a Driusso costruito quello che è il nostro progetto Schema Idea Corner. Un progetto fatto sostanzialmente per realizzare qualsiasi tipo di allestimento che partendo da degli elementi modulari statici, e due li abbiamo costruiti per voi qui, uno è Starwood e uno Stark, possono accogliere di volta in volta il box che ritenete. Lo abbiamo imparato dai mobili da bagno, non occorreva andare molto lontani, no? Quindi invece di lavorare con una semplice culla, perché non allestiamo un box? Quando vado nei negozi di ceramica trovo 20, 25, 30 box bagno. Sono fantastici. Fatene uno di pavimento Stark, forse potreste avere un successo, no? Penso. Abbiamo insieme all'architetto anche costruito un box un po' più complesso per la sonorità, per l'ascolto, è composto appunto dal pavimento Iles e anche lì il tema dell'esperenzialità diventa fortissimo, perché c'è la Schemateca. Che cos'è la Schemateca? Ve li faccio percorrere poi ovviamente li vedete. La Schemateca è l'ultimo dei progetti che abbiamo realizzato più complesso, è quello che noi definiamo la Smart Shop Experience, un'esperienza molto veloce, molto semplice, digitalizzata per la vendita. Non so se avete potuto anche viaggiare un po' negli altri spazi, gli allestimenti sono ovviamente anche all'interno, in ambiente condizionato, sopra al terzo piano, molto più freschi, molto più comodi, dove c'è la Schemateca, quella più grande, l'Ambassador, che potete vedere con dei sistemi molto vicini al computer, molto vicini alla vista tridimensionale, digitale, che noi ovviamente ricerchiamo come emulazione di quello che è la scelta nel web, trasformarla e portarla nel nostro spazio di vendita. Partiamo dal colore, tutti i prodotti sono stati ricodificati secondo dei parametri cromatici, sette parametri cromatici, tutti i pavimenti, indipendentemente dalla materia, sono stati avvicinati a un codice colore, per costruire quei mood necessari per fare il progetto, per aiutare il cliente non a scegliere un provimento, ma a scegliere veramente una soluzione totale dello spazio. Abbiamo realizzato anche macchine più piccole, una la potete vedere, ed è questa, la potete vedere nello spazio sonora, dietro, giocate, divertitevi, non fate altro che prendere questi oggetti che vedete, li appoggiate su quella console e immediatamente sul video vedete le immagini del prodotto, delle schede tecniche, del configuratore, tutto quello che può essere utile per trattare il prodotto, fino ad arrivare ad elementi più complessi, più articolati, un progetto completo. Un progetto che permetta di dare allo spazio logica, narrazione, esperienza, vostra e del cliente. Quindi, facendoci ricordare quello che poi anche l'architetto Franco Di Lusso ci ha fatto vedere tra le righe del design che sono questi oggetti, design esperienziale, design evolutivo, tutte tematiche che ci devono portare, speriamo oggi, a un bel coffee break che ci serve.